Per quanto riguarda le cose che escono sui giornali, è ovvio che io, oltre a leggere i giornali, devo anche avere direttamente spiegazioni sui giustificativi delle spese, come è sempre stato fatto finora. E una risposta al sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino l'ha data al quotidiano che, mosso dall'interrogazione di Fratelli d'Italia, ha pubblicato le spese di Alexander Pereira passando il rassegno alle uscite della carta di credito aziendale o la richiesta di rimborsi. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, chiede spiegazioni così come i sindacati in un comunicato dove si chiedono risposte e chiarimenti su come vengono spese le risorse della fondazione con particolare riferimento alle spese di funzione della sovrintendenza. Pereira giustifica così le sue uscite che ammonterebbero a 60.000 euro spesi nel 2021 e 14.000 euro nei primi quattro mesi del 2022. I beneficiari sono macellerie, pescherie, frutti vendoli, ristoranti lussuosi. Tutte hanno una spiegazione e per ognuna ci sono i giustificativi e tutte sono compatibili e in linea con il regolamento interno del maggio che indica i tetti massimi di spese consentite, dice Pereira, che non le definisce in realtà spese ma investimenti. Perché? Il sovrintendente parla di relazioni con personaggi di un certo calibro. Questo avrebbe un costo. A casa sua avrebbe invitato finanziatori e artisti in un clima amichevole e rilassato ma sempre per mantenere i rapporti. Non è un segreto per nessuno che io ami cucinare e ospitare a casa mia e di tanto in tanto mi metto ai fornelli, ha detto, e sottolinea di come i contributi da parte dei privati si hanno aumentati dalla sua nomina e tramite sempre i suoi contatti. Nel 2020 la cifra raggiunta era di 4 milioni e nel 2021 di 7,5 milioni. Insomma, Pereira non avrebbe niente da nascondere, così come per la spesa ad una casa d'asta. La carta di credito sarebbe stata usata per acquistare un prezioso autografo regalato a Zubin Mehta per festeggiare i suoi 85 anni. Quindi, tutto alla luce del sole per lui, anche gli scontrini.